Con Alessandra Bonesi, psicoterapeuta, io essendo una materia anche abbastanza scientifica quella di cui lei si occupa, farei una domanda aperta, cioè il titolo di questo seminario, un nuovo umanesimo, reinterpretato o meglio spiegato da una psicoterapeuta, lei peraltro cosa dirà se interverrà a questo seminario? Buonasera a tutti, come collegare l'idea del nuovo umanesimo all'idea di una psicologia, di una psicoterapia? In realtà non solo ci sono punti in comune, ma direi che un qualsiasi tipo di lavoro con gli esseri umani deve tener conto degli aspetti legati all'umanesimo. Allora rifacendoci, sempre parlando di umanesimo, ad esempio l'idea di Terenzio, che chiaramente era uno dei classici che sono stati poi durante l'umanesimo riportati in vita, e Terenzio parlava di cambiare la nostra attitudine verso gli esseri umani, quindi l'essere umano non più come un nemico, ma l'essere umano come qualcuno da comprendere, da capire anche nella sua pena, anche nel suo dolore e quindi non qualcuno da imbrogliare o da prevaricare, ma qualcuno che è come me semmai da comprendere e da aiutare. Quindi questi tipi di valori, questa attitudine e quanto va trasmessa sia all'interno di un percorso psicoterapeutico, sia all'interno di un qualsiasi percorso educativo, quindi all'interno della scuola, sia nei confronti dei ragazzi che nei confronti degli insegnanti. Quindi la mia idea di scuola, dove fra l'altro nelle scuole ho molto lavorato sia con i ragazzi, sia tuttora nella formazione con gli insegnanti, è che qualsiasi disciplina, qualsiasi obiettivo didattico non può prescindere da un'idea di educazione dell'essere umano, quindi di formazione dell'essere umano, altrimenti diventano materie morte. Quindi poi bisogna capirci che cosa intendiamo per essere umano e che tipo di lavoro si può fare con l'essere umano, perché c'è un terribile scollamento, ma direi quasi proprio una rimozione sociale alla conoscenza dell'essere umano, per cui nelle scuole si insegnano materie utilissime, straordinarie tutte, ma si dimentica di insegnare la cosa più importante, ossia io chi sono, come sono fatto, come funziono e partendo da questo soprattutto cosa posso diventare, come posso diventare. Questo è quello che trovo sia interessante, quindi parto da ciò che sono io oggi, mettendomi in cammino, come e cosa potrei diventare. Cioè se l'essere umano è vero che è la specie apice del pianeta, come mai nella maggior parte dei casi non manifestiamo questo nostro essere specie apice, ma anzi manifestiamo degli aspetti ancora legati all'essere umano astrolopiteco, cioè quindi la difesa del territorio, la conquista, l'aggressività, il confine, difeso a tutti i costi, ma questo è il comportamento degli esseri umani appena scesi dall'albero, degli alberi. Diciamo che magari in un termine un po' troppo semplificatorio, però insomma per far capire è anche un individualismo eccessivo quello di cui tu stai parlando. Esatto, proprio l'idea di un individualismo eccessivo. Uno scatto evolutivo per l'essere umano è in realtà utilizzare, ecco appunto prima accennavi, hai parlato di scienza, di un approccio scientifico, beh allora l'utilizzo dei lobby prefrontali, quindi proprio della parte nuova, più evoluta del cervello, per l'altro l'abbiamo anche solo noi esseri umani, non ce l'hanno gli animali con tutto l'amore e rispetto che si ha per gli animali, ma solo gli esseri umani hanno i lobby prefrontali, la corteccia prefrontale che è la parte del cervello più nuova, la neocorteccia, e che è sede di tutti quei comportamenti evolutivi che dovremmo incarnare, ossia collaborazione, cooperazione, empatia, comprensione, capacità di prefigurare. Allora questi sono tutti gli aspetti che andrebbero educati e sviluppati in una scuola, cioè se non si insegna a scuola ad utilizzare bene il cervello, allora che ci andiamo a fare, scusatela? Sì sì sì, è molto chiaro, e anche se ho ben capito, interessante l'aspetto diciamo che praticamente c'è un lavoro pedagogico che non si rivolge soltanto agli studenti o ai ragazzi o ai giovani, però anche agli adulti, cioè agli insegnanti, quindi in qualche modo non si finisce mai di imparare e in qualche modo si è anche in dovere di imparare. Esatto, hai proprio colto il punto. L'idea di educazione è un'idea di educazione permanente, non si può immaginare che dopo un percorso, che sia un percorso scolastico, eccetera, poi noi abbiamo finito, anzi direi che tutta la vita, se abbiamo chiaramente questa idea della possibilità di miglioramento e di evoluzione continua, beh tutta la vita è un percorso di continua autoeducazione, quindi vi dirò che prima di tutto gli insegnanti devono essere un modello, un esempio di questo, quindi continuamente, ma non parlo dei corsi di formazione, seppur importantissimi rispetto alla propria professione, alle proprie materie, parlo proprio di un'idea di educazione permanente, un'educazione permanente proprio a sviluppare, utilizzare meglio anche loro, noi, proprio quella parte del cervello che ci dovrebbe rendere specie apice di questo pianeta. Grazie ad Alessandra Bonessi. Grazie a voi. Grazie a voi.